Siamo in Consiglio Comunale per far sapere a tutti i consiglieri, soprattutto anche alla Giunta e al Sindaco, questa nostra contrarietà sia al progetto sia alla modalità con cui ci è stato presentato. Il neonato Comitato Cittadino per la Salvaguardia degli Alberi di Piazza Saione è così salito sino a Palazzo Cavallo per ribadire la propria contrarietà al progetto dell'amministrazione comunale di rifacimento della piazza. A destare le maggiori perplessità nei residenti e commercianti del quartiere, l'aumento dei flussi di traffico ma soprattutto il taglio di alcuni alberi. Il progetto non ci piace perché è costosissimo, abbiamo visto il capitolo di spesa è altissimo, più di un milione di euro, 330 giorni, se va bene, di cantiere aperto, il taglio degli 11 alberi, il roseto, la rimozione della statua e questo per far passare una strada che cambierà senso di marcia. Da via Guelfa si metterà in via Vittorio Veneto dal lato del palazzo. Quindi ci saranno due strade che si metteranno in via Vittorio Veneto e via Vittorio Veneto ne risentirà perché molte sono quelle che si mettono e da lì si esce pochissimo. Anche se sono previsti, abbiamo visto nel disegno del progetto dei piccoli alberelli, questi ci metteranno altri 20 anni per diventare grandi e con il cambiamento climatico che ormai è innegabile, secondo noi è folle tagliare degli alberi grandi, belli e sani per sostituirli con delle aiuole rasoterra. Già 500 le firme raccolte dal comitato. Firme cartacee, in questo momento c'è anche una petizione online sul sito, sulla piattaforma change.org, basta digitare il saione che compare e che si può firmare, chiediamo di firmare anche per fare pressione.